Bene, si vede la presentazione? Direi di sì, io la vedo. Ok, vediamo ancora un minuto a quelli che si stanno connettendo all'ultimo momento. C'è la fila fuori, per forza. Fila all'ingresso, come dice qualcuno. Tutti quelli che escono dall'ufficio alle 18.00 e volvono a casa per il next code. Che vitaccia che hanno però. Ma a noi piace così. Eh, ma a noi ci piace soffrire, come dire. Ah no, se non so l'organizzatore, non lo fa. Va bene, fa niente. Tanto se non si vede qualcosa me lo dite voi. Ok. Bene, partiamo. Ciao a tutti, sono Marco Maddiona, per chi ancora non mi conosce. Bentornati o benvenuti a Next Code. Oggi parleremo di Stateful Partners con Azure, insieme a Massimo Bonanni di Microsoft. Ciao Max. Ciao ragazzi, grazie. Grazie di essere venuti, grazie. Grazie di ospitarmi, soprattutto. Grazie a te Max, è sempre un piacere. Allora, per chi non conoscesse, Next Code Generation è un'initativa organizzata da CSMT e i suoi partner. Abbiamo un sito internet, nextcodegeneration.it, ci siamo come CSMT Polo Tecnologico su Instagram e sul canale di YouTube di CSMT Gestione, potrete trovare anche le scorse sessioni. Che cos'è Next Code Generation? Parliamo un po' di tematiche relative allo sviluppo software, alla tecnologia, ci siamo messi insieme con questi partner e anche altri che adesso non vedete qua scritti, però siamo un bel team e stiamo diventando un bel team, per cercare di diffondere un po' delle nostre conoscenze e aiutarsi a vicenda e cercare di creare qualcosa, insomma, una community che condivida informazioni relativamente allo sviluppo del codice. Partiamo subito con la Next Code Challenge, chi è già venuto qua sa che cos'è. È una sfida di coding dove si può partecipare singolarmente o a squadre, è possibile utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione e viene stilata e costantemente ha aggiornato una classifica che si chiuderà con l'ultimo incontro del 2020, quindi mancano veramente poche sfide e la sfida sta diventando molto accesa. Di solito diamo 5 punti per la soluzione migliore, 3 punti per le due soluzioni che si classificano sul podio e un punto per qualsiasi soluzione corretta. Come basiamo la nostra valutazione sulla correttezza del risultato, l'efficienza dell'algoritmo, lo stile della programmazione, l'originalità della soluzione e la presenza dei commenti. Questa era la sfida che avevamo proposto il mese scorso, dove eravamo dal vivo, siamo riusciti a fare un incontro dal vivo dopo i primi dell'anno scorso ormai, purtroppo siamo dovuti ritornare online, però diciamo che ci sono problemi ben più gravi, quindi finché riusciamo a trovarsi tutti insieme siamo comunque contenti. Allora, la challenge 08 era questa, un'equazione 1 su x più 1 su y uguale a 1 su n, si doveva verificare quando n è uguale a 1.260, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto solamente un concorrente che ha risposto correttamente, AC, gli altri che hanno partecipato hanno dato un risultato sbagliato, quindi AC ha preso l'argo nella classifica. E diciamo che Alex e Massimo Forni devono fare bene nelle prossime due sfide se vogliono ancora competere per la classifica del 2020. Bene, proponiamo la successiva challenge, quella che poi vi invieremo anche per email. Diciamo che si sta aumentando la complessità delle sfide, visto che stiamo arrivando verso la fine. Comunque vi consiglio di provarci comunque, anche se non riuscite ad arrivare al risultato. è un lavoro di problem solving, di programmazione, che dà le sue soddisfazioni quando riesce. Poi dopo noi ovviamente carichiamo le soluzioni delle challenge in seguito all'incontro. Quindi domani se volete andare a vedere come il nostro vincitore ha deciso di implementare la soluzione e vi fate anche un po' di cultura sulle tecnologie e i metodi che utilizzano gli altri. Quindi qual è la sfida? Dato un numero, una sua sottostringa 10, S10, è una sequenza delle sue cifre la cui somma è 10. Ad esempio le S10 di 3.523.014 sono le seguenti. Quindi c'ha 3.5.2, poi c'ha 5.2.3, 5.2.3.0 e 2.3.0.1.4, le cui somme fanno tutte 10. Quindi un numero è sottostringa 10 a fine se ognuna delle sue cifre ha partito ad almeno una sua S10. quindi in questo caso il numero elencato è la sottostringa 10 a fine mentre 2.8.5.4.6 non lo è appunto perché il 5.5 non diventa sottostringa 10 con nessuno. Quindi definiamo T di N la quantità di numeri S10 affini compresi tra 1 e 10 alla N incluso. Ci può dimostrare ad esempio che T di 2 è uguale a 9 e T di 5 è uguale a 3492. Bisogna trovare T di 10 alla 18 modulo 1.000.7. Diciamo che è abbastanza complessa, però qualcuno che ha ottenuto la soluzione c'è e quindi vi sfidiamo in questa sfida che deve essere sicuramente divertente. Come partecipare? La metodologia è lo stesso. Quindi mandate una mail da challenge.netcogeneration.it con il solito format. Ovviamente anche queste informazioni le riceverete per email. Ultime informazioni prima di lasciare la parola a Massimo che sicuramente è più interessante di quello che mi sto dicendo io. Non mi sarei così sicuro. Non me la giocherai a carte. No, no, no. Siamo sicuri. Allora, questo è il numero per ricevere informazioni. Quindi 371-168-8930. Se inviate un messaggio su WhatsApp con scritto NextCodeOn vi aggiungeremo nella lista broadcast dove mandiamo tutte le news relative a NextCode. Quindi non esitate ad aggiungerlo. Prima di dare la parola a Max lanciamo il prossimo evento che sarà l'11 novembre sicuramente online Visual Everything Vision Enabled Machine Interaction. Quindi Mattia Rizzini di CSMT ci racconterà un po' di cose sull'argomento. Mattia che ci ascolta. Però non vi svelo niente. Quindi io ho finito. lascerei la parola a Max e arriva la parte interessante. Vado a condividere lo schermo. Tanto di nuovo grazie perché chi mi conosce sa che io adoro fare queste cose. Quindi ditemi se vedete lo schermo. Penso di sì, immagino. Perfetto, arriva. Grazie a te comunque Max. È un piacere per noi sempre. Ok. Allora, prima di tutto mi chiamo Massimo Bonanni ma come mi chiamo, cosa faccio? Non è importante lo scoprire della fine. Non è quello il problema. Prima cosa, siamo in un meetup quindi immaginiamo di essere in una stessa sala. In una stessa sala di un meetup quando qualcuno ha una domanda, chiede. In una sala alza la mano. Qua la mano non ce l'abbiamo. Quindi aprite il microfono e fate domande. se volete mettete nella chat io non la sto guardando adesso la chat nel senso che non ce l'ho sotto occhio ma insomma non è un problema risponderò alla fine non vi fate scrupoli perché vista l'ora tarda potrei saltare delle spiegazioni e quindi lo faccio apposta per tenervi attenti quindi se avete delle domande o qualcosa salto voi mi riprendete così io mi ritorno in me e quindi andiamo avanti. Di che parliamo? Stateful pattern. Perché? Perché nel precedente meetup che ho fatto ho parlato delle Azure Function e abbiamo visto alcune caratteristiche delle Azure Function una di queste era il fatto che una Azure Function non può avere stato proprio perché l'idea di una Azure Function ho dato di parto spiegando qual è l'idea dietro le Azure Function e che cos'è il server per arrivare al fatto che queste poveracce non ci possono nello stato però sappiamo bene che in un'applicazione reale normalmente uno stato esiste sempre e la semplice Azure Function non ci dà una mano a risolvere alcuni scenari quindi capiamo come utilizzando l'Azure Function e alcune sue estensioni quindi da questo scenario da questo meetup non esce solo lo stateful pattern ma anche l'idea che le Function si possono estendere poi potranno non essere semplici però sono estendibili e quello che vedremo oggi è di fatto un'estensione dell'Azure Function quindi in linea teorica ognuno potrebbe crearsi la sua. Cominciamo. Che cos'è il serverless? Due slide di ricapitolazione sulle Function per contestualizzare di cosa parliamo. Allora il serverless va tanto di moda adesso adesso se non hai almeno un paio di applicazioni in produzione serverless non sei nessuno. In realtà è un'architettura quindi bisogna bisognerebbe sapere esattamente di che cosa stiamo parlando perché questo modo di approcciare una soluzione software un'architettura una soluzione anche complessa risolve alcuni requisiti quindi se avete questi requisiti bene altrimenti è moda cioè state facendo moda e siccome noi facciamo informatica la moda la fa qualcun altro probabilmente non è la scelta migliore. Allora quali sono i tre punti cruciali importanti del serverless? Tanto la strazione del server cioè entriamo nell'ottica che io scrivo un pezzo di codice stiamo parlando di Function scrivo uno snippet di codice lo farò anche quando parleremo di pattern stateful scrivo un pezzo di codice non mi importa dove gira non mi importa qual è il server qual è la sua potenza chiaramente quando vado sul cloud definirò qual è la location qual è la region però non mi interessa che sia specificatamente un server di tipo X con tot CPU N giga di memoria non me ne importa frega di meno l'approccio è io scrivo questo pezzo di codice questo pezzo di codice risponde a degli eventi che accadono in una sorgente ok quindi la sua scalabilità è guidata dagli eventi e la piattaforma mi fa scalare la mia Function cioè le mie esecuzioni quanto serve ok poi in più ho il fatto che pago esattamente per il numero di esecuzioni che faccio in realtà c'è già una domanda prima nella chat ma la rispondo subito voi avete due modi per farli girare nel cloud uno è scala tu non importa io pago per quello che viene usato un altro è un po' come succede per le web app per gli app service lo aggancio ad un app service plan ma qui stiamo parlando di serverless quindi prendiamo il primo nel primo caso cioè quello che si chiama consumption plan voi avete un milione di esecuzioni gratuiti al mese in realtà la misurazione del costo di una Function è occupazione della memoria per durata posto che una Function non può durare a tempo illimitato è occupazione della memoria per la Function quindi voi avete un milione di esecuzioni al mese o 400.000 gigabyte per secondi non è semplice calcolare quanto cuba quanto costa una singola esecuzione perché proprio perché dipende da quanto dura e voi non lo sapete ma anche se avete certo come è fatto il codice non lo potete sapere quanto dura è matematico per la sua occupazione di memoria l'unico suggerimento è fate roba che dura molto poco e non metteteci dentro roba che non serve non portateci dentro delle DLL perché vi fa comodo potrebbero servire domani e domani ce li mettete adesso non serve ok quindi attenzione è quello che pagate però che succede che se io sto investendo in un qualcosa e non so se avrà successo e la mia architettura è guidata dagli eventi beh potrei o creare una web api quindi un website che espone degli end point rest o usare le function nel primo caso io pago al mese anche se nessuno mi chiama nel secondo caso io pago se qualcuno mi chiama altro scenario in alcuni casi possono essere usate le funzioni le function in Azure per gestire dei task amministrativi un caso banale il recycling delle chiavi di uno storage per rendere più sicuro lo storage può essere fatto da una function e quella function potrebbe girare una volta ogni 5 minuti se vi fate due conti una volta ogni 5 minuti in un mese non arriva un milione quindi non pagate niente quindi quel task verrà fatto a costo zero e quando io posso fare una cosa a costo zero sono contento ok come è strutturata una function allora c'è un evento che accade da qualche parte quindi qualche parte sono una ventina di possibili sorgenti attualmente che sono la chiamata HTTP un timer di 5 minuti di prima la scrittura di una riga in una table storage piuttosto che un messaggio in una coda è ok non molti di più SQL non c'è per esempio questo fatto di qualcosa che accade mi sveglia mi fa girare la mia fa mi fa girare il mio pezzo di codice che rappresenta la function e questo e quella freccetta arancione si chiama trigger il trigger altro non è che un componente delle function gestito dall'infrastruttura che al momento in cui si verifica l'evento mi fa rannare scusate il termine brutto il mio pezzo di codice questo trigger si può scrivere potete scrivere il vostro trigger custom poi vi do il mio github vi do i riferimenti al mio github e trovate due esempi di trigger custom uno per SQL visto che SQL non ce l'ha c'è un esempio su SQL e uno per interagire con un servizio esterno che è quello di AQ Weather AQ Weather è un servizio che dà informazioni atmosferiche quindi sono due esempi di come si scrive un trigger però insomma non è questo il meetup giusto il trigger porta con sé un payload perché sono i dati caratteristici dell'evento cioè se il trigger è stato scatenato da una chiamata HTTP voi ricevete la request HTTP perché su quella potete lavorare se l'evento è stata la scrittura di una tabella in una riga in una tabella antepostora già ricevete la riga ok ci sta dentro il vostro pezzo di codice andate ad interagire con dei sistemi esterni altrimenti è fine a se stessa la funzione questa interazione con i sistemi esterni può essere in uscita in ingresso o bidirezionale e questa freccetta arancione che va verso sistemi esterni anche questi sono circa una ventina si chiama binding una funzione ha un trigger è sempre un trigger qualcuno la deve svegliare quella dorme si no e può avere 0 1 più binding dipendentemente da ciò che volete fare anche il binding può essere creato perché l'infrastruttura delle function il runtime delle function si appoggia sul runtime dei webjob e i webjob hanno una loro sensibilità che viene utilizzata anche dalle function quindi ricordatevi che non avete il binding per SQL ma ve lo potete scrivere ok perché tutto questo perché per come è pensata una function in realtà abbiamo dei limiti allora la function deve essere stateless perché perché una volta gira da una parte la volta dopo gira da un'altra è un'altra istanza e potrebbe essere dall'altra parte del data center in quella region quindi non è detto che siano vicine e poi non è detto che siano nello stesso spazio di indirizzamento non è detto quindi lo stato internamente non può avercelo evidentemente può salvarlo esternamente questo sì perché potrebbe scriverlo da qualche parte ma lei di suo internamente lo stato non può avercelo brutto è che una funzione non può chiamare direttamente un'altra funzione lo può fare passando per esempio da una coda ma direttamente non lo può fare e poi una funzione dovrebbe fare una sola cosa molto piccola e molto velocemente per i costi di cui sopra e se voi pensate ai processi stateful in particolare ai workflow il workflow è un processo stateful perché un workflow è allo stato interno perché deve sapere dove è arrivato banalmente il workflow ha delle caratteristiche che sono in antitesi rispetto alle function perché perché deve gestire lo stato banalmente dove è arrivato è uno stato interno a quella particolare istanza del workflow ha interazione tra componenti un workflow è fatto ma arriva una chiamata io mando una mail poi scrivo da qualche parte e poi faccio altro quindi ho un'interazione con i componenti quindi un workflow una funzione di un workflow dovrebbe chiamare altre funzioni ma questo non lo può fare e poi potrebbe dovrebbe deve fare tante cose se no che workflow se fa una cosa sola non è un workflow tipicamente il workflow orchestra e ne chiamate quindi già da questo capite che se penso allo stateful in ottimo il workflow è un esempio di stateful ed è la cosa più quello che ci cambia più spesso in un'applicazione questo va fa botte con le function come faccio a implementare infatti l'affermazione è che mi sedi come faccio a implementare lo stateful utilizzando le function e beh il trucco la magia è le durable function le durable function che cosa sono allora intanto è un'estensione delle function qualcuno noi Microsoft ha esteso i trigger e i binding per supportare lo stato all'interno delle funzioni e vedremo due modalità di supporto dello stato il workflow e l'entità con stato ok cioè la possibilità di avere una entità una entità che non sapete dove sta ma che quando la invocate quella ha esattamente lo stato che gli avete impostato e quindi potete cambiarlo di fatto è un'entità con stato quello che succede è che ovviamente basate sono basate sulle function perché sono un'estensione delle function sono stati aggiunti nuovi trigger e nuovi binding poi ve li faccio vedere ed è stata aggiunta la possibilità all'interno di queste function di gestire lo stato di avanzamento del workflow ricordate che una function non può durare in eternum quindi ci deve essere un trucco per fare in modo che questo workflow che potenzialmente potrebbe durare giorni effettivamente venga eseguito per giorni lo vedremo dopo il trucco è che in realtà viene eseguito lo stretto necessario per chiamare un'altra funzione e poi va a riposo quindi in realtà quel workflow fatto da una lunga durata in realtà è eseguito in n piccole durate ognuna di quelle è un'esecuzione però deve mantenere lo stato cioè deve sapere dove è arrivato perché se no come fa a ripartire da dove era arrivato e qui viene usato un altro trucco l'altro trucco è il durable task framework il durable task framework è un prodotto a sé è un prodotto open source è un progetto open source che trovate ho messo il github nelle reference e permette di implementare i long running workflow persistendo lo stato su uno storage e il trucco è proprio questo è che questo long running non sta sempre in esecuzione ma sta usa una tanto è usato da tanti team ma lo vedremo usa una sorta di approccio event sourcing per cui ogni volta che fa qualcosa si segna quello che ha fatto e a quel punto quando riparte è esattamente in grado di sapere dove era arrivato perché all'elenco di ciò che ha fatto è l'approccio event sourcing quando voi implementate un approccio event sourcing significa che ogni volta che fate qualcosa vi segnate dove siete arrivati se anche vi distraggono e dovete ripartire voi riprendete la lista e fate ah questo l'ho fatto questo l'ho fatto ah sono arrivato qua quindi siete sempre in grado di ripartire da zero e arrivare dove siete stati dove eravate nel punto precedente esattamente il trucco che viene usato poi vi faccio vedere in un'animazione come funziona il meccanismo purtroppo purtroppo è un limite in questo momento anche se le function possono essere sviluppate in powershell in python in java le durable function semplicemente perché le estensioni sono state sviluppate in soli due linguaggi sono disponibili in cshark e javascript e questo è un limite però d'altronde vi mettete lì vi sviluppate la vostra estensione in java e la pubblicate su github ma no a parte gli scherzi attualmente questa è la limitazione qual è la struttura di una durable function allora la durable function ha un client si chiama client è una azure function standard che ha uno dei trigger standard ma che al suo interno può usare un binding particolare che gli serve per far partire il workflow quindi il tutto parte da una chiamata al client poi spero tutto sarà chiaro quando vedrete il codice e quando andrete su github e vi fate un giro sul mio progetto perché il progetto che userò nelle demo è disponibile su github quindi è un entry point cioè io farò partire un client il client al suo interno utilizzando un binding custom delle estensioni farà partire un orchestrator l'orchestrator è una funzione una function che sfrutta il durable task framework che poi vi faccio vedere come e che orchestra semplicemente fa il vigile chiama altre funzioni utilizzando questa volta un trigger custom per essere invocata esteso dalle durable function e dei binding custom per chiamare delle attiviti le attiviti sono normali function che questa volta usano un trigger custom delle durable per essere lanciati e quel trigger fa la comunicazione tra le due funzioni c'è dietro un trucco poi ve lo faccio vedere ma c'è un trucco è tutto un trucco l'informatica non c'è mai niente di reale tutto assolutamente carta vince carta perde e poi quell'attiviti in realtà sfrutta dei binding che sono quelli standard quindi il trucco è metterci in mezzo questi componenti che fanno uno da orchestrazione le attiviti fanno le singole attività che dovete fare nel workflow e la client dà il via l'esca è quello che spinge per far saltare tutto ok vediamo un po' quali sono i problemi che vanno a risolvere allora prendiamo questo esempio qua allora questo esempio è si chiama function chaining ho una funzione che deve fare qualcosa e chiamare un'altra funzione il risultato di questa deve essere usato per chiamare una terza funzione allora questa sembrerebbe non difficile perché in un approccio normale usando le function quei cilindri potrebbero essere delle code quindi la prima funzione scrive qualcosa in una coda quella coda fa partire la seconda è un trigger standard è uno dei trigger disponibili la seconda scrive in un'altra coda e fa partire la terza vedo alcune limitazioni su questo primo non è chiara la relazione tra le code e le function se non lo scrivo da qualche parte se guardo solo potrei usare una naming convention vero però tanto noi sviluppatori di naming convention non la usiamo mai non è chiara la relazione tra la coda in mezzo a due funzioni cioè non è non è esplicita in più è un dettaglio implementativo quindi io devo saperla se non lo so non so come funziona il meccanismo a me farebbe piacere che questa coda ci fosse ma fosse trasparente per me ci fosse qualcuno che la gestisce per me in più è come gestisco il contesto cioè se la la f2 va male e io voglio fare rollback richiamando la f1 e non lo posso fare perché è un problema perché se la f2 becca un'eccezione o torna un errore sbagliato o un qualcosa sbagliato come torno indietro la f1 è già stata eseguita non è semplice la gestione del contesto non è semplice il giro dritto è facile metto in coda leggo metto in coda leggo ma il giro sbagliato non è così semplice quindi l'error handling non è banale in questo senso come la risolvo con le durable function rullo di tamburi così allora come è fatta intanto qui vediamo la struttura è una function quindi ho un name ok ho il classico name che abbiamo nelle function o questo è l'orchestrator o vedete un trigger custom che è dato dalle sensibilità delle durable function che verrà invocato quando un client mi chiama tramite questo contesto qua tanto vedete che è un'interfaccia quindi manteniamo la testabilità che abbiamo nelle function perché questa è moccabile senza nessun problema tramite questo contesto io posso per esempio nel primo giro allora questa è la parte di dichiarazione questa è la parte delle attività allora se andiamo a vedere punto punto questo pezzo di codice che cosa abbiamo abbiamo che il primo non è altro che la chiamata la f1 cioè cosa fa l'orchestratore chiama la f1 e aspetta aspetta nel senso che lo vedremo verrà messo a riposo cioè la funzione non rimane in attività chiama la f1 quando la f1 finisce magicamente in x avrò il risultato della f1 a questo punto posso chiamare la f2 con lo stesso risultato della che ho ottenuto prima e così via eh ma è uguale a prima no perché io potrei mettere un try and catch solo nella prima eccezione e magari anzi scusate nella seconda nella seconda chiamata potrei mettere un try and catch e se becco un'eccezione richiamare la prima ne chiamo un'altra ma funzionalmente la sto richiamando quindi è ben diverso da prima in più qui non sta scritto da nessuna parte se ci sono delle code quali sono come sono e chi le gestisce ci pensa l'infrastruttura in realtà il trucco dov'è è che questo signore qua il context gestirà per noi delle code di trasmissione ma chi se ne frega è un problema suo ok qualcuno l'ha scritto l'attestato non è un problema mio è più astratto questo codice che non gestire le code come fa a ricordarsi dove è arrivato questo cioè come fa questo workflow a gestire il fatto che ho chiamato la prima funzione sta aspettando il risultato e poi deve chiamarla la seconda beh il trucco è l'event sourcing come avevo detto vediamo un esempio esattamente la stessa funzione di prima ok quindi qualcuno chiama il client il client sfrutta quei due cilindretti sono delle code non ci interessa quante sono sono una parte di storage gestito dall'infrastruttura quindi non è compito mio gestirlo quindi quando il client dice starta un orchestrator scrive da qualche parte e quei binding e trigger custom fanno sì che l'orchestrator parta si legge il codice perché l'orchestrator è un codice di fatto e dice ok ah io sono partito vedete a destra c'è la history bene devo chiamare la F1 quindi mi segno che ho chiamato la F1 e sto in attesa in aspettativa e sto in attesa la piattaforma gestisce il salvataggio della F1 dei dati per la F1 che a questo punto parte perché perché c'è un trigger custom che fa sta roba l'F1 viene eseguita quando finisce ancora l'infrastruttura gestisce il ritorno e quindi scrive dentro una delle code non è un problema quale sia cercate di astrarvi che deve ripartire quell'orchestrator l'orchestrator riparte e dice ah guarda ma io l'F1 ho già fatta quindi lo salto non c'ho bisogno di farlo l'ho già fatta sono ritornato apposta e ma devo fare l'F2 allora me la segno e lancio l'F2 l'F2 parte e fa tutto il meccanismo chiaramente la storia è un po' più complessa e poi ve la faccio vedere reale però immaginate il meccanismo qual è l'F2 finisce a questo punto qualcuno rifà partire quella istanza dell'orchestrator di nuovo e dice ok ah ma io questa già l'ho fatta quindi la salto ah ma pure questa già l'ho fatta quindi la salto ah questa la devo fare allora lo dico all'infrastruttura l'infrastruttura farà partire la terza ok e a quel punto quando di nuovo finisce la terza e riparte l'orchestrator l'orchestrator dice ah il primo l'ho fatto il secondo l'ho fatto il terzo lo fa oh allora ho finito se ho finito ritorno al risultato ok evidentemente l'orchestrator gira più volte è evidente qui ho fatto almeno tre esecuzioni dell'orchestrator più uno del client più le tre esecuzioni delle function ce ne abbiamo un milione quindi non è un problema no per noi però il meccanismo è questo lui ogni volta che riparte sa esattamente dove è arrivato perché perché c'è il durable task framework dietro le quinte che ci aiuta quindi è lì la l'estensione delle function più il durable task framework ve la faccio vedere così è più chiaro forse allora apro un viso studio questa è l'implementazione della function chaining tolgo un po' di breakpoint esattamente quella che avete visto prima le function sono esattamente quelle che avete visto prima ok e la client come così vediamo la client è quella che start al tutto che non l'abbiamo vista come è fatta allora tolgo un attimo questi poi li mettiamo allora è una function come tutte le altre ha un trigger classico quindi in questo caso è una chiamata http get e all'interno dura usa un binding che è un'estensione che è il durable client questo mi permette di fare questo start new async gli do il nome dell'orchestrator il nome della funzione e gli posso passare dei dati unico vincolo sul dato il dato deve essere una classe che è json serializzabile permettetemi ma non è un vincolo cioè la maggior parte a meno che non usate i dataset ma siete dei pazzi perché sul cloud non esistono cioè in generale qualsiasi dato potete passare qua dentro quindi immaginate la ricezione di un ordine un controllo nel client e poi potrei far partire l'orchestrator passandogli il mio ordine quindi è abbastanza a orchestrare e poi mi permette per esempio tra le altre cose io qui ho un po' di metodi per cui se faccio questo il viso studio mi aiuta ho un po' di metodi tipo start new rewind riparti da capo che ne so terminate quindi capite che siccome c'è una storia da qualche parte io posso immediatamente posso dire alla piattaforma questa me la fai ripartire da capo semplicemente lei cancella la storia e quindi la funzione riparte da capo o questa me la termini e lei banalmente mette il tappo alla fine e quindi quella è terminata male insomma non terminata in maniera corretta ma terminata quindi posso gestire un po' di di può fare un po' di gestione sulla parte di di orchestrazione ma la cosa interessante è che vedete io ritorno una risposta web http rest utilizzando questo adesso vi faccio vedere che succede quando quando la eseguo permettetemi di mettere un po' di break point così ci fermiamo vi faccio vedere il giro giro in girello quindi mette uno qua su ogni pezzettino quindi vediamo e mettiamolo qua mando in esecuzione adesso vedrete una sbrutolata di cose perché dentro questo progetto c'è anche una gestione di delle entità però non è un problema intanto se ci sono domande io mi faccio un po' di grappa no non è grappa nel senso che sono così naturale purtroppo ora come al solito questa è una funzione quindi farà partire il runtime ci metterà dentro il codice si aggancerà per il debug in realtà partono due progetti perché nella demo finale vi farò vedere ci sarà un sito web che utilizza delle entità gestite tramite le durable function quindi delle durable quelle che si chiamano durable empty ma in questo momento non ci interessa quindi il sito web lo vediamo dopo non è un problema sta partendo col tempo che ci vuole siamo a una certa ora ci mette un po' qui c'è una di queste che è questa vedete sì immagino di sì ve la faccio vedere così ok questa function chain client è esattamente l'end point di quella funzione client che mi fa partire il tutto quindi io quello che faccio mi copio questo qui mi copio questo me lo mi si è spostato aspettate che la ritrovo eh sì se nel frattempo smetti di scrivere le cose poco più questo ok siccome è una chiamata get quello che posso fare è aprire un sito web potrei usare postman ma è una chiamata get quindi è come leggere una pagina web la lancio e dovrei firmarmi nel breakpoint ok sono nel client ok eh mandiamola avanti quello che succede è che lui dà una risposta e poi la vediamo infatti se prendo il sito web aspettate ecco qui c'è una risposta poi la vediamo eh però intanto è partita anche l'orchestrator quindi state vedendo che sono in un certo senso asincrono il client ha chiuso e poi parte l'orchestrator questo se ci pensate è normale perché siccome parlano con una coda è ovvio che qualcuno scrive un messaggio in una coda esce e poi l'orchestrator parte no quindi ci sta però io sono arrivato qua quindi faccio F5 tanto ho il breakpoint devo fare questa lui fa questa e chiama la F1 la F1 chiude oh sono rientrato nell'orchestrator dall'inizio ma questa la salto infatti non l'ha fatta quindi chiama la F2 che però viene fatta perché non era stata fatta prima finisce la F2 oh rientro dentro l'orchestrator salta la prima salta la seconda perché le ha già fatte e chiama la terza la terza finisce rientro nell'orchestrator stavolta ho fatto 1 ho fatto 2 ho fatto 3 capite che ho fatto 1 ho fatto 2 ho fatto 3 potrebbero esserci degli if potrebbero esserci dei loop cioè è evidente che adesso queste sono sequenziali ma se ci mettete degli if funziona uguale non è un problema poi c'ha dei vincoli che poi vi spiegherò dopo a questo punto ha finito ha finito non riparte più niente perché ha chiuso ok dove ha scritto il tutto qui se vedete ci sono le varie esecuzioni dove ha scritto il tutto mi apro lo storage localmente vedete questa roba qui questa roba qui ora vi provo ad allargare a allargare meglio questa è la storia infatti se vado ad allargare il tutto questo sta nello storage locale perché sto lavorando in locale capite che quando andate sul cloud utilizzate uno storage sul cloud qua se vedete esiste un id e questo è l'id dell'orchestrator dell'orchestrazione uno step 0, 1, 2, 3, 4, 5 e per ognuno di questi io non ve l'ho fatto vedere nel frattempo altrimenti avremmo visto la roba parziale orchestrator started execution started task scheduled bla 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 questa è esattamente la storia che è un po' più complessa di quello che ho messo io perché chiaramente si porta dentro dove stanno anche i risultati ovviamente e se è un risultato complesso c'è un json però a me che me frega tanto me lo gestisce lui no nel senso che voglio dire è una cosa gestita assolutamente dal durable task framework e qui ho tutto quello che mi serve per capire dove è arrivata che sta facendo e qual è il meccanismo che c'è dietro le quinte ok quindi è è tutto sommato non complesso permettetemi lasciamo tutto così e vado avanti con le slide perché ora vi faccio vedere un'altra cosa domande oh se ci sono domande fermatemi eh di solito a quest'ora la gente mi spara per fermarmi per cui voi fermatevi allora quali sono i vincoli dell'orchestrator l'orchestrator deve essere deterministico che significa che non ci posso mettere del codice che dipenda dalla data dal random da numeri random perché lui ogni volta che passa deve ripassare esattamente nello stesso modo è Massimo ma a me mi serve il numero random vuoi che non mi serva un numero random c'è problema lo mettete in un activity che crea un numero random a quel punto l'orchestrator chiamerà l'attivity per farsi dare un random ma lui nel suo codice non lo può avere un random così come non può avere dei time non può avere thread esterni delay non può fare io fa solo ed esclusivamente orchestrazione e se avete la necessità non può fare start di un di un thread a parte se avete orchestrazione di delay bisogno di delay e bisogno di aspettare un certo tempo il contesto che avete visto vi dà anche delle primitive dei metodi per aspettare un tot di minuti e così via poi ve lo faccio vedere il concetto è quel pezzo di codice deve poter essere rieseguito più volte senza cambiare il flusso di esecuzione per ogni singola istanza e questa è la cosa più difficile altro limite se fate versione 1 e versione 2 attenzione perché se cambiate radicalmente il codice le istanze che sono ancora non completate vanno in errore perché ripartono e semplicemente i step che dovrebbero fare non se li ritrovano più quindi ci sono dei pattern vi ho messo il link dentro dentro le slide potremmo stare qui a parlare per due giorni sui pattern da applicare ma vanno tenuti presenti quindi attenzione stessa cosa non fate loop infiniti perché sennò quello continua a consumare ovviamente non credo esista potrebbe esserci un qualcosa che dice giro per un po' di tempo in attesa di qualcosa e poi esco quello sì adesso vi faccio vedere però attenzione quando scrivete l'orchestratore un altro metodo un altro pattern comincia a essere un pelo più complesso quello che si chiama fein in fein out in realtà sarà fein out fein in perché il primo pezzo si chiama fein out e il secondo fan out e il secondo fan in ma è uguale cioè io ho una funzione in base al risultato di quella funzione devo chiamarne n tutte uguali ma con differenti parametri in parallelo cioè devo aspettare che tutte finiscano non tanto in parallelo quanto il secondo cilindro e aspetto che tutti finiscano perché devo prendere i dati da tutti e aggregarle e poi chiamare una terza allora il fan in è semplice cioè il chiamare n funzioni è semplice basta che scrivo n messaggi in una coda è facile non è un problema il fan out è un po' più complicato come faccio ad aspettare che tutte finiscano per aggregare i dati non è banale poi deve dovrei tracciare l'avanzamento di tutte le funzioni per poter sapere che hanno finito tutte quindi questa roba qui non è fattibile banalmente perché una funzione non può chiamare un'altra funzione quella è normale intendo ok e poi tutto ciò che avevo prima tutto quello di prima quindi il contesto ce l'ho ancora non è che cambia in più mi si sono aggiunti anche questi questo con le durable function diventa questa roba brutta a vedersi però ora la interpretiamo in che modo allora la prima questa sopra è la chiamata della prima f1 ok ottengo un risultato questo risultato è un risultato anche complesso perché abbiamo detto basta che sia serializzabile non è un problema poi in base alla lunghezza di ciò che ho ottenuto creo dei task perché è tutto async await chiaramente è tutto task based creo questo call activity async chiama genera dei task quindi io posso generarli con dei valori passanti aggiungerli ad un array e poi dire ok ciccio vai avanti quando tutti sono terminati when all è una caratteristica del task della classe task quando sono tutti terminati io faccio la somma in questo caso sto facendo la somma ma capite che potrei fare un ciclo quello che vi pare questa parte qui implementa la chiamata di tutte le funzioni insomma il cilindro iniziale il cilindro finale e poi chiamo la terza brutto a piacere quanto vi pare però è implementabile questa roba qui non è implementabile con le function normali ok non abbiamo finito signore e signori è sempre più difficile vi vengo a vendere le pentole questo è un po' più complesso ancora io ho una prima funzione poi aspetto un po' di tempo oppure un evento dall'esterno in un workflow ci sta sta cosa qualcuno approva qualcosa se è scaduto un certo tempo faccio escalate altrimenti se mi è arrivato l'evento di approvazione faccio approval questo con le function è impossibile da realizzare cioè no magari magari è anche possibile però non ci metto proprio a pensarci intanto la race condition between la race condition tra mi è arrivato l'evento di approvazione ed è scaduto il timer questa roba qui non è gestibile facilmente secondo anche se riuscissi a capire che mi è arrivato l'evento devo annullare il timer devo annullare l'attesa perché altrimenti quella scatta prima o poi quindi anche questa non è banale è tutto quello che c'avevo prima quindi aumentano i problemi se uso le durable function cosa faccio scrivo questo che è ancora brutto però che succede allora la prima è una chiamata quindi la request approval poi dico ok fai una cosa crea un timer vedete che qui il timer cioè aspetta un po' aspetta un qualcosa è usato è creato usando il context che è uno del che è specifico della durable function quindi qui gli dico guarda aspetta per 72 ore questo dice questo e agganciati su questo cancellation token è esattamente il processo che voi usate col cancellation token negli async esattamente lo stesso perché questo è async poi wait for external event significa non so come fai non mi interessa non lo voglio sapere ma questa roba qui potrebbe andare avanti se ti viene mandato un evento che si chiama approva l'event lo scelgo io il nome potrei averne 100 non è un problema lo scelgo io a quel punto se vai avanti se uno dei due finisce la race condition cioè se è scaduto il timer e quindi entro in escalate o se mi è arrivato l'evento quindi il task che finisce è l'approval event allora che cosa faccio cancel del timeout utilizzando il cancellation token ed è questo il modo con cui io annullo il timer e lo posso fare perché è tutto task based e chiamo l'altra activity brutto eh per carità tutti i Walter non posso fare